Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di Staffetta Umanitaria, un progetto meraviglioso che ho conosciuto da poco e nel quale ho cominciato a collaborare. Spero guarderete questo video fino in fondo perché Staffetta Umanitaria si lega moltissimo al mondo della lettura, al mondo dei libri. Infatti organizza ogni mese un gruppo di lettura con una scelta di titoli interessantissimi, tra i quali appunto poter scegliere la lettura da fare durante il mese per poi poterne parlare tutti insieme alla fine del mese durante una diretta che viene fatta su Instagram. Quindi appunto spero che guarderete il video fino in fondo perché sicuramente vi potrà interessare sapere quali titoli sono stati scelti per il mese di marzo e spero ovviamente deciderete di partecipare. Ma parliamo prima di che cosa sia Staffetta Umanitaria. Staffetta Umanitaria è un progetto che prende forma su due canali, quello di Instagram e un blog. All'interno di questi due canali quindi vengono divulgate informazioni, idee, riflessioni, spunti di lettura e così via, che riguardano però tutte una grande tematica, quella delle migrazioni, soprattutto in Italia. Quindi si parla di migranti, di rifugiati, di richiedenti asilo, di decisioni politiche che vengono prese in merito, di iniziative solidali che vengono prese in varie parti d'Italia, di letture ovviamente che riguardano questo argomento, il tutto chiaramente per cercare di combattere questo razzismo che si sta ormai divulgando e che ormai ha preso piede in tutto il nostro paese. Ho conosciuto questo progetto, scusate, grazie a Francesca, che è una delle due ideatrici insieme a Oriana, una ragazza di Cagliari e un'altra ragazza invece di Napoli, quindi da due parti diverse d'Italia, che si sono incontrate grazie a internet e che hanno deciso di tirare su questo progetto insieme, spinte da questa volontà di, diciamo, lottare contro questo razzismo, questa intolleranza, che ormai ha invaso completamente il mondo di internet, i social, il mondo dell'informazione. È nato quindi Staffetta Umanitaria, un progetto meraviglioso che dall'idea di queste due ragazze ha poi coinvolto un numero sempre più grande di persone. Per quanto riguarda Instagram, vi invito a seguire la pagina, per l'appunto, soprattutto perché il profilo, non so come si dica su Instagram, comunque perché lì vengono condivise tantissime informazioni, soprattutto per quanto riguarda letture a tema, per l'appunto migrazioni, migranti, razzismo, riflessioni di questo genere, ecco. E, ovviamente, c'è poi la parte del blog dove questo argomento viene approfondito, avendo chiaramente più spazio all'interno degli articoli, per poter parlare di questi argomenti. Quindi troverete varie rubriche che parlano di questo. Ma, ovviamente, ve lo farò vedere più in specifico, facendovi vedere, ecco, come è composto effettivamente il blog in ogni sua parte. Come stavo dicendo all'inizio, per l'appunto, ho conosciuto questo progetto, grazie a Francesca, che io seguivo su Instagram e che ne ha parlato nelle sue storie. Allora mi sono subito appassionata, perché ho pensato che oggi è veramente raro, quasi unico, trovare persone che pubblichino post, recensioni, articoli, insomma, qualunque tipo di intervento sui social che sia contro il razzismo. Per me questa lotta, ecco, contro l'intolleranza, è qualcosa che ho fatto e che ho vissuto negli ultimi anni in maniera molto profonda, perché ho avuto la fortuna di conoscere alcuni ragazzi arrivati qui, appunto, sui famosi barconi, perché ho avuto l'opportunità di lavorare con persone che discriminano addirittura i bambini, e io sono una futura mamma adottiva, quindi è una cosa che mi tocca in prima persona, ma soprattutto perché mi sono resa conto che dare la colpa ai migranti di tutti i problemi del mondo è una scelta un po' di comodo e io non voglio essere quel tipo di persona. Quando sono sui social a volte mi sono spaventata delle cattiverie che le persone riescono a scrivere su questo argomento, tanto che soprattutto su Facebook piano piano ho cominciato a eliminare tutte le persone che condividevano post razzisti, quindi questo mi ha aiutato, insomma, quando sono sui social a sentirmi un po' più a casa, un po' più nel mio mondo, perché vedere cose del genere, leggere cose del genere mi faceva male, però è anche vero che sono sempre rimasta abbastanza in silenzio, è vero che se magari, ecco, mi trovo a parlare con qualcuno che mi dice di essere apertamente razzista, ecco, o comunque contro i migranti, o che i migranti sono la rovina del mondo, eccetera, eccetera, allora sì, è chiaro che mi trovo a difendere la mia idea, però è anche vero che non sono il tipo da mettermi all'attacco, ecco, ogni volta che leggo dei post del genere, e sbagliando, ecco, sicuramente, ed è per questo che in staffetto umanitario mi sono sentita veramente a casa, perché la parola principale è rispetto all'interno di questo gruppo di persone che lavora dietro a questo progetto, quindi c'è un'informazione di base, quindi nessuna delle cose che vengono condivise si basa su notizie false, sul sentito dire, quindi già questo comunque è una base di partenza molto importante, c'è il rispetto per l'opinione degli altri, ma soprattutto viene, diciamo, viene resa pubblica, viene data importanza alla tolleranza, che oggi è probabilmente la cosa più importante sulla quale dovremmo lavorare tutti, la tolleranza verso il prossimo, che molto spesso ci manca anche con il nostro vicino di casa italiano, ecco, quindi è per questo che questo progetto mi ha veramente toccato il cuore. A quel punto, quindi, ho contattato Francesca, chiedendole se, insomma, avesse bisogno di un'altra collaboratrice, perché mi sarebbe piaciuto partecipare, e lei mi ha detto che il blog è assolutamente aperto a tutti coloro che hanno piacere di entrare in questo mondo, di parlare di questo, di diffondere la tolleranza, per l'appunto, e quindi sono entrata a far parte di questo progetto e via via anche io scriverò degli articoli per il blog. Direi adesso di farvi vedere il blog, che è il posto principale dove si anima, ecco, il progetto, e ve lo faccio vedere con una clip a parte, perché ho piacere di farvi vedere le varie rubriche, così che anche voi possiate andare a leggere i nostri articoli. Dopo questa clip poi parliamo di libri. Eccoci qua, questa è la home page del sito, del blog, anzi, staffettaumanitaria.wordpress.com Come vedete qui avete già un'anticipazione dei libri che vi farò vedere più tardi, comunque passiamo alle varie parti del blog. Staffettaumanitaria ha come sottotitolo Restiamo Umani, che secondo me è un invito meraviglioso. E poi abbiamo qui le tre sezioni principali, quindi la home, dove scorrendo potete trovare tutti gli articoli, la sezione delle informazioni, dove viene spiegato qual è il motivo per cui è stato creato questo blog, chi sono le creatrici, dove si può trovare tutto ciò che riguarda staffetta umanitaria e così via, e infine la sezione contatti, dove invece potete voi scrivere a noi del blog qualsiasi tipo di cosa, una richiesta, una constatazione o anche addirittura segnalare eventi contro il razzismo, scusate, a favore dei migranti, che possono essere così pubblicizzati da noi su vari canali in modo da far conoscere questi eventi. Ma torniamo alla home. Nella parte sinistra, perché sapete che nella parte centrale ormai avete visto ci sono gli articoli, nella parte sinistra c'è la possibilità di iscriversi al blog in modo da poter ricevere tutte le notifiche riguardanti i vari articoli che escono e poi c'è la sezione categorie che vedremo più nel dettaglio. Andando ovviamente più sotto, poi trovate, non so, l'hashtag staffetta umanitaria, chi siamo e cosa facciamo, le foto di Instagram che vengono aggiornate via via che il profilo si aggiorna e così via. Ma passiamo alle categorie. Nella sezione chi siamo trovate gli articoli delle persone che scrivono per il blog o che collaborano con il blog e la pagina Instagram. Quindi via via ci sono appunto gli articoli di tutti coloro che lavorano dietro le quinte e presto troverete anche il mio, quello che appunto riguarda me. Nella sezione eventi vengono raccolti gli articoli che segnalano degli eventi particolari sempre contro il razzismo e a favore dei migranti. Nella sezione gruppo di lettura che è quella che probabilmente vi interesserà di più trovate divisi per mesi quindi vedete abbiamo cinque articoli a febbraio e un articolo, scusate, a marzo dove vengono raccontati quali sono i libri scelti per il gruppo di lettura e poi vengono recensiti uno per uno man mano che appunto il mese finisce e possiamo parlarne. Abbiamo poi la sezione migrazioni in pillole che secondo me è una delle più interessanti che si trovano oggi in circolazione perché una volta a settimana questa sezione viene aggiornata e si parla praticamente di degli eventi principali che riguardano le migrazioni per la settimana appena trascorsa. In questo caso per esempio vedete dal 26 febbraio al 4 marzo oppure dal 19 al 25 febbraio e sono le notizie principali notizie purtroppo spiacevoli ma anche tante belle notizie che riguardano magari progetti di integrazione o non so, eventi che aiutino i migranti a imparare un nuovo mestiere a imparare la lingua o di accoglienza e così via. Credo che leggerli ci dia veramente una panoramica di come si sta muovendo questa tematica all'interno del nostro paese. Abbiamo poi la sezione music dove si parla di musica quindi vengono raccontate e spiegate delle canzoni che hanno come tematica quella delle migrazioni. Parole migranti che per ora vede soltanto un articolo diciamo parla di saggi principalmente infatti in questo caso vengono nominati due saggi. Poi abbiamo la sezione pop dove invece vengono appunto raccolte delle cose un po' particolari come in questo caso meme contro il razzismo che appunto possono essere possono da una parte strapparci un sorriso ma sempre farci riflettere e infine Vox Populi che invece raccoglie i murales anche in questo caso per ora ne abbiamo uno per questo vi invitiamo a mandarci murales o comunque scritte che trovate nelle vostre città che diciamo lottino e mandino messaggi contro il razzismo per esempio questa è molto bella dove tu vedi confini io vedo orizzonti. Bene eccoci tornati adesso quindi come promesso è il momento di parlare di libri quindi vi farò vi do insomma l'elenco dei titoli scelti per questo mese potete leggere un libro solo due tre tutti è assolutamente indifferente potete leggere quale libro vi ispira di più e poi ovviamente ne parleremo alla fine del mese il primo titolo scelto nella categoria romanzi è nel mare ci sono i coccodrilli perdonatemi se leggo adesso ma il nome altrimenti non me lo ricordo storia vera di Enaitola Akbari infatti questo è un romanzo che racconta la storia di questo personaggio con questo nome quasi difficile che non ripronuncerò la sua storia vera dalla sua nascita alla sua partenza dall'Afghanistan fino ad arrivare in Italia quindi è un romanzo come ho detto però racconta una storia vera di un vero migrante che dall'Afghanistan è arrivato in Italia per la categoria memoir invece è stato scelto il libro siamo tutti profughi di Malala che ormai conoscerete tutti perché ha vinto il premio Nobel per la pace una giovane ragazza veramente dal coraggio probabilmente straordinario ecco in questo libro Malala racconta la sua esperienza personale ma anche l'esperienza di altre donne coraggiose tutte profughe ovviamente che hanno affrontato in varie maniere il viaggio quello che viene chiamato il viaggio della speranza quindi sono storie vere di persone che lei ha realmente incontrato che si intrecciano alla sua per raccontare praticamente storie di donne coraggiose di donne che veramente hanno messo a rischio tutta la loro vita pur di trovare una salvezza e un posto migliore dove poter vivere per la categoria romanzo illustrato invece è stato scelto preghiera del mare di Khaled Oseini in questo caso in questo volume che secondo me è veramente meraviglioso un padre racconta al figlio l'odissea di ogni migrante quindi l'infanzia felice il viaggio traumatico e pericolosissimo attraverso il mare per riuscire ad arrivare in Italia alla ricerca di una vita migliore per la categoria saggio infine è stato scelto naufraghi senza volto dove un medico legale racconta la sua esperienza diretta nel tentare di dare un volto e un nome alle vittime del Mediterraneo quindi quei corpi che sono annegati in mare nel tentativo appunto di raggiungere le coste italiane e delle quali per molti di loro insomma non sapremo neppure mai niente ecco quindi una delle grandissime tragedie di questo fenomeno migratorio è sicuramente rappresentato dalle vittime del mare bene ragazzi quindi io spero che sceglierete di leggere uno dei tanti libri dei libri insomma che vi ho proposto anche più di uno se vi piacerà e ovviamente vi invito a seguire la pagina Instagram di Staffetta Umanitaria in modo da poterne parlare tutti insieme alla fine del mese se avete domande in merito scrivetemele pure mi farà piacere rispondere anche perché non so se ho detto tutto e niente noi ci vediamo prestissimo con un altro video ciao ciao